Eccolo! L'ho ammazzato, l'ho ammazzato Andiamocene, risalite a tenda e poi girate a sinistra verso il posto Sono sotto la roccia Sto pushando roccia piccola Vado sopra la roccia Ok, ti seguo Scav, lo faccio Scav di pronto a me Mi hanno sparato Sto sparando io allo scav Io ho un mate, ma c'è stata a distesa, non ho capito Ah no E' un cazzo di scav player questo Cazzo di cancro Con un tozzo Tira uno scav player Un colpo li ho tirati Ragazzi siamo tranquilli eh Però mantenete la posizione Ma secondo me sono morti tutti i player Dici beh Se ce n'è uno forse Cioè non so, non potrei sapere dove posso essere Ragazzi scendo, non segue niente Oh Guarda che c'è un contatto Ho un contatto alle 3 casette Ma non so Pi preciso eh Di fronte Di fronte alle 3 casette Di fronte alle case E dietro alle case Di fronte verso di me Verso di noi diciamo Ok Provedo Ammazzato un altro Madora raga il termico Porca broia Davanti pulito Con il boot ho visto cazzo di co Minchia Eh Oh Chi è che tira? Sono io sono io sono io sono io Chi è che tira ragazzi? Io sono io che sparo Ok Raga vedo tu Tira uno scav Tira uno scav Tira uno scav Non lo vedo io eh Stiamo verso le case Ma io son da solo qua sulla roccia Raga l'avete lasciato da solo? Ma faccio cosa Oh Sono da solo io qua? Beh sono lì si Eh si Vedi sto trovando io Non sai niente trovare un tuo shank Ho trovato un tuo shank Ho trovato un tuo shank al favore Ma stai spostando il catero o vengo io? No son qua sopra Sto controllando un po' Secondo me te lo ripeto I player sono finiti Minchia ma sai dove riesco ad arrivare a vedere? Eh Il mare da qua la spiaggia la vedo benissimo Ma riesco a vedere la roccia quella laggiù in fondo dove ci sparavano l'altro giorno Eh ho capito ma sei sicuro che ti renderizza fino a me in fondo c'è uno C'è uno caricato nella prima stanza proprio direttamente L'hanno caricato sul lap questo E forse l'ho ammazzato io Guarda la targhetta se l'ho ammazzato io No no ma non è play Eh perchè l'ho visto dentro la finestra e gli ho sparato Scalp line Ci si è fatto uno scalp line Minchia ma ragazzi ma è una cosa mostruosa il termico Ma Eh Dove siete? Facciamo una cosa eh Eh Dimmi Facciamo le prove per vedere la distanza Vado verso il mare Sì ma deve venire qualcuno qui a darmi copertura Grazie Uno o due venite qua raga un secondo E poi lo pubblico eh così le vedi anche te Venite un po' due devono venire un attimo sulla roccia grossa del cecchino Ragazzi Chi viene? Arrivo io Andami in secondo Tanto io posso uppare mentre mentre gioco quindi Ok Se uno guarda avanti e uno indietro mi fate un favore Allora dove stai andando funk? Eh ma vado a cominciare verso il mare Un po' Ma adora mi sono scoppiato uno attraverso la finestra delle tre casette Cioè Ah c'è qualcuno che viene con me? Ok Sì dovresti avere uno lì vicino a te eh Ecco uno che guarda dietro Oh questo c'è qualcosa nella tipe No ok Ok Vai 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 Uh minchia se ti vedo la Eh ma qua è vicino aspetta non è Eh tanto vicino non è eh Ecco adesso Vai a destra però non metterti negli alberi Eh no sto scendo dagli alberi Non ti vedo più Non ti vedo più eh Sì sì Non mi vedi più? No non ti vedo più Ah minchia Ah minchia Ah aspetta però forse non c'hai angolo Eh Qua? No Vai a roccetta vai a roccetta sopra noi C'è un uomo sulla riva sulla spiaggia C'è un uomo sulla spiaggia C'è un uomo sulla spiaggia Ti puoi mettere là Vediamo se vedo Minchia si eh Ti vedo Aspetta dimmi quando smetti di vederlo Sì Ora E ora nemmeno mi vedi? Prima di arrivare all'alberto No non ti vedo più Ora nemmeno No E ora? Dimmi quando? No Ora sì 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 Tu mi sposto indietro piano? Basta Ah qua? Eh a metà Qua sono 200 metri quindi Ho capito Ho capito Vai a sinistra Vai a sinistra Vai nella roccia quella in mezzo al niente Qual è la roccia? La roccia in mezzo alla prateria Eh qua sono No no Quell'altra Quella a sinistra verso la roccia cecchino Quella in mezzo tra lì dove sei E la roccia cecchino E la roccia del cecco scav Ah ho capito Hai capito? Ma il gruppo di rocce grandi o quella in mezzo? Quella in mezzo Quella in mezzo piccolino bassino Ok Ti vedo bene Ti vedo bene 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 no eh però ti vedo Sono qua Eh ma ti vedo di brutto Se ci possiamo fare Salici sopra Sono sopra già No ma mettiti che vedi la roccia Ecco Sdraiati Sdraiati in qualche modo Aspetta un attimo non faccio lo scavo Sì? Siete in due vi vedo Però sai cosa? Lo zaino Ti impedisce il termico Quindi vedo solo un po' di gambe Un po' di braccia Un po' di... Andiamo? Ah no 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 sdraiati Mettiti lì Sdraiati Aspetta un po' più a destra mettiti Eh no ti vedo di brutto Minchia se... Minchia se ti vedo di brutto No raga è spettacolare Cioè poi lo pubblico Andiamo dai Sparami vicino Quanti metri saranno? 200 Aspetta che lo setto No ma compensa sti cazzo Che compensa? Non lo vedo mica dove va il colpo Occhio sparo eh! State fermi Sì 150 metto dai Questa è nomi LOL Dove t'è arrivato? Ma hanno sparato Eh sì hanno sparato così Andiamoci Ma è arrivato vicino? Sì sì era corto però Eh sì era 150 Dai ci vediamo sotto il roccio cecchino Come lo so Non c'è strrolla e che era il mio presidente un po' un cazzo e io manco dai andiamoci stiamo salendo sotto la ccecchina ok qua qua mi vedo che la do cazzo sei con loro siamo in 4 no? no perchè è 5 c'è il quinto? non lo so barabba è dietro di noi credo ok noi dobbiamo uscire ok di scav c'era uno qua a destra ecco qua ricarico raga siamo vicini raga andiamo all'aereo mi sembra un'aeronocca guarda ma è un po' più a sinistra funk no? perchè magari ci sono gli scavli in mezzo a un delirio no c'è anche avanti non c'è il bunker anzi vediamo se il strega può dare tranquilli no c'è un'altra ah roadblock si ce l'abbiamo l'abbiamo chiusi la porta per favore chiusi la porta per favore chiusi la porta eccolo la porta no non mi faccio dopo chiusi la porta arrivi a farti anche le casse no mi estrai prima si si comunque hanno messo hanno messo ste cazzo di uscite proprio a puttane due due sette due dai uno sette uno quattro poi poi è tutto il che c'è da un bunker voi